Fare il film forse è la cosa più bella nel nostro lavoro, proprio parlo, parlo nel momento in cui lo fai. Poi c'è anche qualche volta l'aspetto che il film a un certo punto lo finisce, lo devi interrompere, lo diceva qualcuno, c'è anche l'aspetto un po' di cosmetto, devi togliere, devi scegliere, e tutta quella cosa, tutto quell'esperienza di vita, perché è comunque un momento di vita molto forte, si riassumono così in maniera più troppo sistemica, in una durata che non è quello che abbiamo ottenuto. E' nato è quello che abbiamo goduto, perché ti assicuro che fare film è perfetto. E' vita assolutamente, nel senso che ci sono attegue, non c'è il tempo molto, non c'è il sa che farò dopo, perché ciò che devi sapere subito, che devi fare, perché le risposte diventano davanti come un momento, perché tutte le cose bisogna tirarle fuori in una maniera meritativamente, possibilmente più alta, nello stato di tempo, ma anche nel film di grande va, ci si sente sprecci, si sente sprecci, e quindi, io quando sto dentro al pubblico, io adesso entro nel tunnel, non posso più uscire, fare l'attività con un amico, fare quello, fare quest'altro, guarda che sto dentro al tunnel, dico, ma cazzo quanto è bello questo tunnel, come si sta bene questo tunnel, no, capisco, adesso capisco, quello che è dire, quando è il modo, così, è assolutamente indicabile, è limitabile, Ferdinia, ma, quando lui avrassi, parte il film, più che finito, no, è, quando gli mancasse quella cosa là, dove lui era sovrano, per me, sono dei registi, no, non siamo tanto sovrani come il suo, erano da molti registi, però è vero che un po' di, un po' di presa c'è, un po' di sovranità mi è rimasta, ma sì, ma adesso sovranità, io appoglio veramente quella frase con il giorno delle riprese che comincia la nostra vita, un pezzo di figlio, allora tagliare un attore, qualcuno tagliare un alloghezio, c'è un grande dolore, a volte forse giusto, perché forse l'aspettatezza di chi lo guarda dall'esterno, che non l'ha avvissuto, che non l'ha avvissuto, che non l'ha avvissuto, ma non è ben pazza, eh, sì, sai, quella non pazza, mi dispiace, ma è vero, però è vero che, è vero che, è vero che, è vero che, cioè, girare io sempre dentro agli 8 o 7, è semplice che io sempre dentro questa cosa, però non mi ha ragione, no, non più, hai ragione, è vero, perché è venuto qua, non vedo, da fuori, da fuori, no, insomma, gli altri non lo, insomma, non riesco a starci dentro, a me piace quello che c'è stai minuti e poi di più non ci riesce, però è vero che, la bella descrizione che hai fatto è il fatto che tu stai là in quel momento concentrato in quella cosa e sai cosa farai dopo, cioè, non c'hai, c'hai, è molto fatigoso, perché è fatigosissimo, perché torni a casa, mi strutto, magari c'è la prestigione del tempo per l'avere tipo con gli amici, ma ti lo fai, ti ci spiega anche che non lo fai, perché sei distrutto e sei concentrato su un lavoro, è molto bello perché sono delle settimane, trovo di concentrazione su una cosa specifica tua, ma è molto bello, la cosa che voglio dire, perché se no sembra che è molto faticoso, ma molto faticoso soprattutto, cioè, se non lo vuoi veramente fare, secondo me non è bello, è fatica e basta, è chiaro che a noi ci piace farlo e che troviamo anche soddisfazione poi del dopo, no, perché poi c'è la soddisfazione del dopo comunque, però è certo, io penso che tu dicevi che tutte le cose che mi hanno un po' toccato, qui ci riconosco, ma anche diverse tra loro, e credo che lui ci parlasse anche di questi momenti di vita che magari se ne vanno in un taglio, che se ne vanno in una cosa che io sento tantissima, ed è vero, poi io e lui siamo diversi in questa cosa, perché lui è più cinico, sempre, lui taglierebbe le scene, io a volte ci sono delle scene che io riconosco, però è vero, allora ce n'è una, a noi è malavita, ce n'è una così, io riconosco che è una scena, che il film è un po' meglio senza, ma mi dispiace questa comparsa, perché c'è una scena così, non vuole malavita, io mi ricordo entusiasmo di questa comparsa, e io non riesco a tagliarla in ogni modo che questa comparsa sparisce completamente da uno schermo, mi dispiace, era pure il giugino di un amico nostro, però, invece, però volevo, posso chiudere con un piccolo, mi ha fatto ricordare una cosa, mi ricordo quando ero bambino, c'era un intervista a Fellini in televisione, e Fellini era sempre tutto così soave, gli chiedono, maestro, cos'è il cinema? E lui risponde, il cinema è quando si sta su un set, si sta girando in un esterno, improvvisamente comincia a piovere, e ci dobbiamo fermare, i macchinisti fanno questa grande tenda, e noi ci ripariamo tutti sotto questa tenda, e si mangia sotto la tenda, mentre sopra si sente il rumore della pioggia, e effettivamente mi sembrava quello che tu dicevi, cioè lui vedeva come cinema il maestro, quando non girava, ma nel momento per sé.